La carovana messinese di Miss, Reginetta d'Italia è partita a termo evigliatore con la prima selezione e i primi verdetti che hanno decretato le prime sette finaliste regionali. L'elegante evento svolto sul bordo piscina del club Marrakesh ha visto la partecipazione di 15 ragazze che hanno sfilato in elegante e in costume, con il sogno di approdare la finale nazionale che si svolgerà a Porto Sant'Elpidio dal 2 al 5 settembre. Mari Casette, Maria Elena Mirabia, Lidia Pataneggi, Selys Gros, Giorgia Gambicchia, Chiara Siciliana e Federica Cambria sono le prime reginette della stagione. Allora intanto è un'emozione unica perché io non me l'aspettavo assolutamente e quando ho sentito il mio nome ho sentito il cuore e battere l'impazzata perché comunque non pensavo. E niente, tanta gioia e felicità. Durante la serata, conclusosi con il classico bagno in piscina, si sono esibiti gli allievi della Tofit Olivarella diretti a Sifu Roberto Pasqualino, che ha presentato alcuni esercizi di winchù, la cantante Chiara Rizzo e il rapper Giuseppe Pantè. La prossima selezione si svolgerà il 22 luglio con tante altre Miss che sfideranno l'importante passerella di Miss Reginetta d'Italia. Ciao!